ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella casa del nerd oggi parliamo come avete capito di matti morphing power ranger cioè la serie classica dei power ranger quella che tutti conosciamo nata nel 93 e durata fino al 95 con un totale di tre stagioni allora prima di farvi vedere le action figure confrontate con quelle vintage quelle grandi quelle col meccanismo e quelle moderne voglio raccontarvi un attimo due cose per chi non lo sapesse mighty morphing power ranger è un franchising di una serie televisiva creata da saban entertainment e di proprietà della asbro è strettamente legato a un merchandising di proprietà di bandai e distribuito in italia da giochi preziosi quella che noi conosciamo come mighty morphing power ranger è la capostitite per noi di una serie come via trooper e beatleborg ma in realtà nasce in giappone come super sentai e poi riadattata per con dei nuovi attori per il mercato americano quindi cosa facevano prendevano le scene di super sentai quelle di combattimento e le tenevano i mostri erano quelli originali poi venivano introdotti nelle serie nelle scene dove c'è la città il bar quando sono senza costume gli attori americani che invece facevano le parti dei power ranger ma l'ottanta per cento settanta per cento delle scene di lotta erano realisticamente quelli delle super sentai tra l'altro quella che noi conosciamo come la prima stagione di mighty morphing power ranger in realtà è la sedicesima stagione super sentai che invece si chiamava super sentai zio ranger e praticamente cosa ha fatto saban saban ha comprato dalla sedicesima stagione in poi i diritti per fare poi i power ranger anche da noi la storia che conosciamo noi parla di questi cinque ragazzi che si incontrano per combattere con l'aiuto di zordon la strega rita repulsia e nelle stagioni successive poi lord zed all'inizio sono in cinque rosso nero blu giallo rosa e poi c'è il famoso più che è il verde che è tommy che all'inizio nasce come cattivo poi diventa buono poi viene tra virgolette distaccato dalla serie per un paio di puntate e poi tornerà come white ranger e niente praticamente la storia è sempre la stessa cattivi che vogliono mandare sulla terra per conquistarla dei mostri mostri che erano praticamente gommosissimi ve li ricorderete anche voi con questi costumi strani che però affascinavano per gli anni un po tutti era un po per noi la versione occidentale di godzilla i power ranger americani hanno fatto un successo straordinario tanto che mi ricordo che da bambino nel supermercato vicino a casa c'erano dei diciamo cosplayer già ai tempi degli attori pagati vestiti da power ranger che potevano venire a firmare gli autografi i power ranger tutt'oggi continuano le serie sono tantissime ci sono stati gli adattamenti cinematografici il primo film con gli attori originali che però non erano tutti completi perché ricordiamoci che il red ranger è cambiato nella terza stagione il black ranger è cambiato e trini anche oggi il power ranger più longevo è tommy quello verde che ancora oggi oltre a essere un grande lottatore comunque partecipa ancora ai film dei power ranger le serie televisive e tutto quello che le concerne e niente quindi è un mercato che continua a funzionare è un impero ludico è un impero di videogiochi un imperio di fumetti un imperio di serie televisive è un impero di cosplayer è un impero di tutto la sabana ha costruito veramente un grandissimo impero e adesso partiamo guardando invece le action figure partiamo un passo alla volta con quelle più piccole che erano queste qua queste qui guardiamo se si vede se me lo fa vedere ok queste qua erano quelle classiche le giunture sono molto diciamo rigide nel senso che dopo un paio di anni in cui non si usano tendevano proprio la plastica a diventare dura infatti non le muovo mai più di tanto perché potrebbero anche spaccarsi però possedevano lo spazio per mettere la pistola e in questo caso li possedeva la spada ogni power ranger aveva la sua arma perché unite tutti insieme formavano poi una super arma un'arma mega galattica quindi di questa dimensione c'era il red ranger il pink ranger che aveva l'arco il red ranger la spada e poi ce n'erano tante altre nel senso che c'era poi il blu il nero il giallo il verde il bianco insieme a questa linea qui in particolare hanno creato anche un'altra linea di action figure piccoline che adesso vi faccio vedere intanto per ogni action figure che vi faccio vedere l'esposto così vediamo di evitare zoomate strane ok ripartiamo stavolta con il blu quest action figure a differenza di quelle che vi ho appena fatto vedere sono in metallo sono pesantissime se si svita dietro e si cambia la batteria erano quelle che si si schiacciava dietro la schiena e si illuminava la cintura sono molto belle pesanti le giunture rimanevano morbide infatti ancora oggi si possono muovere tranquillamente le mani si aprivano e si chiudevano ed erano molto carine tutte in metallo di queste io ho il blu ranger il black ranger e il red ranger eccolo qua bellissime queste sono veramente veramente belle queste strisce dorate che vedete sulle braccia ripendevano un po il fattore di potere che aveva il red ranger quando lasciava diciamo dei superpoteri agli altri power ranger si avevano queste specie di fasce dorate tra l'altro ho anche il black ranger piccolino in giro e quindi non è in realtà finito tutto non ve lo faccio vedere perché identico agli altri poi oltre a queste action figure piccoline sono state messe in commercio queste qua più grandi di 30 centimetri queste quale vedete sono state giocate un po il colore bianco se ne è andato avevano la testa che si girava tranquillamente il collo andava su e giù le braccia era molto più movibili le mani si aprivano e si chiudevano le gambe si alzavano si piegavano il piede andava su e giù il busto girava ma non tantissimo era abbastanza rigido anche loro tutti con le loro armi ed erano quelli che per un certo periodo anche per me sono andati per la maggiore perché erano il fatto di vedere il casco così dettagliato era bellissimo quello che a me in realtà non è mai piaciuto ma che ho trovato molto bello nell'action figure che vi ho fatto vedere prima in piombo che non c'era il simbolo disegnato il simbolo disegnato serviva a noi per capire qual era il loro dinosaur ma in realtà nella serie televisiva questo simbolo non veniva riportato fino a che non hanno fatto power ranger il film il primo dove effettivamente anche sul costume veniva riportato il simbolo di questo poi in versione gigante hanno creato anche le versioni con il movimento questo è un yellow ranger di 30 centimetri che si muoveva dietro a un pulsante che permetteva di fare dei movimenti poi adesso sicuramente questo non è il movimento che doveva fare perché secondo me il movimento doveva essere questo qua cioè la mossa di karate purtroppo in questo caso ormai è rimasta e fa solo questo bruttissimo movimento che potrebbe sembrare qualcosa di strano però è comunque un action figure molto bello e secondo me si può sistemare il movimento perché sento che ci sono ancora tutti i vari scatti e quindi va benissimo ecco qua ogni power ranger aveva per un certo periodo dei mezzi particolari nel senso che c'erano delle moto che hanno tipo da cross ma all'inizio c'erano altre moto che erano invece come queste il blue ranger ci aveva la moto con lo spazio per il pink ranger il black ranger la moto con lo spazio per il yellow ranger il red ranger stava da solo perché aveva una sorta di mitragliatrice al lato a me è rimasta solo questa di moto la mia preferita era quella del red ranger però purtroppo al momento mi è rimasta solo questa qua è una moto fatta bene perché i personaggi ci andavano benissimo all'interno potevi anche farli sedere qua e ci stanno benissimo ed era un qualcosina in più quindi diciamo che questa questo merchandising non si è mai fermato in passato c'erano già le armi in plastica c'erano già tutto quello che poteva essere i costumi di carnevale e oggi invece ci sono ancora tante cose perché se uno vuole comprare il morpher per giocare fingere trasformarsi vendono i morpher vendono le armi in prop versione replica vendono i caschi in prop versione replica e quindi c'è tutto un mondo enorme come i videogiochi videogiochi che per l'amor di dio non hanno mai fatto impazzire anche se a me quello del super nintendo e del game boy piaceva tantissimo oggi abbiamo un picchiaduro su ps4 e xbox one che né nel senso bello se sono un appassionato non tanto bello se cerco un picchiaduro mentre c'è un gioco che un picchiaduro a scorrimento che simone vi ha fatto vedere nei video passati che invece merita di essere visto sotto ogni punto di vista e niente adesso passerei a farvi vedere invece quelle che sono le riproduzioni di oggi dei nostri power ranger di una volta adesso la asbro sta pubblicando un po una sorta di revisione nel senso tornano indietro ripropongono personaggi che per noi sono stati storici giustamente per cavalcare l'onda del mercato e ci fanno vedere personaggi nuovi questo è un red ranger guardiamo se riesco a farvelo vedere questo è un red ranger molto grande però anche molto statico braccio che si alza destra e sinistra che va avanti e indietro i polsi si girano però è anche verosimilmente molto molto statico nel senso che posso che gira braccio su e giù avanti indietro gamba è rigida destra e sinistra in alto e in basso e la testa che destra sinistra niente quasi nulla sopra e sotto minimo è molto statico un pezzo unico il busto neanche si muove capito quindi è un è un bel ricordo ma io non lo considererei neanche un bel giocattolo devo essere sincero mentre vi faccio vedere il green ranger tolgo la scatola del questa è la scatola del red ranger che vi ho appena fatto vedere immagine del red ranger davanti uguale nel lato tutti i power ranger questa immagine è molto bella dietro niente di più che delle scritte che spiegano cos'è il prodotto invece invece adesso parliamo di una cosa molto molto bella che è una serie che si chiama lightning collection dei power ranger mighty morphing green ranger della asbro che è questo qua adesso partiamo con la scatola allora come vedete all'interno trovate due mani che sono due pugni che sono qua dentro la testa di tommy che è fatta abbastanza bene la si riesce a vedere anche da qua la scatola è carina c'è questo green ranger disegnato che riproduce quello storico dietro c'è un'immagine del green ranger con la sua spada che vi faccio vedere con l'energia questa è la spada che li dona a ritare porsi alla spada del male che lui userà solo per il periodo in cui è cattivo poi basta e adesso invece andiamo a vedere l'action figure allora action figure della quale sono rimasto veramente tanto tanto stupito positivamente che è questa qua allora super asnodabile i piedi si muovono completamente destra e sinistra sopra sotto poi ve li faccio vedere le ginocchia si piegano le gambe si girano si alzano si piegano maniche si piegano si girano braccia e snodi delle braccia uguali testa va su e giù destra e sinistra il busto si piega e si gira action figure la quale non manca assolutamente nulla fatta veramente bene con il suo pugnale per chiamare il dragon sword la sua spada la sua fondina l'unico difetto che ha questa action figure è una stupidata però è una cosa veramente importante per uno che ama i dettagli cioè sotto l'armatura dorata non presenta i classici rombi bianchi ce li ha di lato nel sottospalla li vedete bianco ma non hanno fatto i rombi quindi di conseguenza l'armatura che volendo si potrebbe anche togliere vi metterebbe davanti al confronto di un power ranger totalmente verde che non ricorda un power ranger questo secondo me è un difetto di costruzione che hanno tutti ma è veramente triste perché con l'impegno si poteva creare una cosa pressoché perfetta come dicevo gli snodi sono eccezionali braccia mani si alza si gira busto che si piega gambe che vanno su giù gambe a destra sinistra piede che si muove si gira non li manca niente è un action figure bellissima bellissima sotto ogni cavolo di aspetto però sono caduti con quel dettaglio quindi adesso mettiamo giù tommy e vi avviso subito che più avanti spero che arrivino sia me che simone dovrebbero arrivare dei power ranger della 3 zero e dovrebbero arrivare speriamo a dicembre gennaio e faremo un bellissimo video e magari riprenderemo un po in blocco tutta la discussione dei power ranger parlando anche magari di delle versioni bandai delle versioni sh figure arts del megazord bandai di qualcosa di ancora un pochino più dettagliato a livello commerciale di action figure ma prima di concludere vi faccio vedere il megazord versione moderna questo è il megazord che la asbro fa oggi per chi lo vuole avere è uguale a quello che avevamo da bambini meno tozzo però esteticamente più o meno identico il nostro era piuttosto più plasticoso anche se questo è un plasticone a tutti gli effetti vi faccio vedere intanto le custodie ve ne faccio vedere una perché sono tutte uguali scatola che riprende l'immagine dei power ranger la scritta power ranger vi fa vedere che all'interno potete trovare nella confezione il triceratopo e lo smilodonte il mammut e l'epterodattilo nell'altra confezione il tirannosauro viene venduto da solo tutti insieme formano il megazord quindi vi fanno anche vedere dietro che il pacchetto di questo più questo più questo formano poi il megazord le scatole sono identiche per tutti e c'è sempre la stessa identica cosa quindi vedendone una le vedete tutti confezione che era più bella quando eravamo bambini da piccoli la moto più bella e questo è il megazord questo qua è il megazord poi alla fine del video vi metto le foto di tutti i dinosauri separati e delle tre posizioni che può prendere quindi dai non sono separati dinosauri a combattimento e dinosauri megazord fatto bene la spada non è in diciamo in metallo finto metallo plastica diciamo che poteva sembrare metallo come quando eravamo bambini i dettagli qua sono tutti in plastica non c'è niente che può ricordare il ferro il metallo però è un action figure fatta benissimo mi piace tantissimo è fedelissima all'originale e dà delle movimentazioni più più belle nel senso che le gambe si piegano e nei lati si possono girare si piegano anche difficilmente un po davanti così ma non si piega il ginocchio le braccia invece si piegano si girano la testa rimane fissa non si gira e i dettagli non sono tutti in adesivo come era una volta in quello classico qua c'era un grosso adesivo invece adesso è un dettaglio proprio dell'action figure quindi io vi ringrazio vi ringrazio con la pazienza di questo video che è più lungo del solito vi lascio qualche foto e se vi è piaciuto scriveteci 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 condividete quello che per voi erano i power ranger fateci sapere qual era il vostro ranger preferito chi era il vostro ranger preferito e perché lo era ciao